bene salve a tutti benvenuti a un nuovo unboxing questa volta faremo due astral pack e tre premium gold sinceramente mi aspettavo che il pacchetto fosse un po più grande ma è meglio così quindi cominciamo apriamo la scatola di colatini vediamo cosa c'è dentro la bustina abbiamo burattino rottame numero c86 numero c82 burattino percepisce ombra contro la mente se mettesse a fuoco magari tifone spaziale mistico è un po se riesco a farla mettere a fuoco prima video che faccio con questa è veramente ok burattino rottame c88 cuore terrino draco volete anni scontrollamento buco troppo senza fine tifone spaziale jd viverna eclisse e una ricarica solare pagate 15 euro bellissimo l'ho trovato un altro continuiamo con il bambolo 6 cronomalia città babilonia burattino arnese bambola tetra personificazione del crimine un altro cuore terrino draco sentinella micro stregona del caos spirito mettitore rico e tigre e luce bursa questa parte la bambolina non è anche stato grazie vediamo l'ultima proviamo cronomalia nodo nodo cordiano network di emergenza che crede che si fredda di chiuso bullettino arnese e magna e d'oro per uno zombie un toro e un ginzo un rayu esposionali calice e un tinki un po insoddisfacente sinceramente andiamo avanti video astrofac giardino nero la pesta di frammenti rompi pesche servire giardino nero oh fossil dyna e un calut perfetto bene questo conclude l'unboxing mi dispiace se ci sono un po di problemi di messo a fuoco ma devo ancora un po abituarmi a una nuova macchina e detto questo vi saluto e vi vedo al prossimo video ciao a tutti mettete mi piace iscrivetevi ciao ciao